Attenzione al capitano, il pallone è aperto a Dei, secondo palo a capito Sì! Go! Go! Deglia Rodri! Deglia! 2-0! Deglia Rodri! Sala merita più di tutti! È lui che sala merita più di tutti! Ha corso dietro a ogni persona che si muovesse sul campo 2-0 per la Roma! Il raddoppio di Rodrigo Taddei L'uomo che lo merita di più, lo dico apertamente in questa partita E questo è un altro grande gol Alessandro Dove passa sempre per i piedi fatati del capitano Che capisce il movimento dei compagni sul taglio di Toni Pesca Taddei sul secondo palo Che fa un gol bellissimo incrociando proprio la palla L'invito del capitano sul palo lungo Un 2-0 veramente bello Che ci toglie un po' da qualche tensione di troppo E mamma mia se ce le toglie almeno per adesso Siamo al 75esimo 2-0 per noi Il gol di Rodrigo Taddei Ci voleva, grande invenzione del capitano Grazie a tutti!